Cari amici di MediCinema, ultima settimana di novembre in compagnia di un nostro film nelle nostre sale prima di passare all'ultimo mese dell'anno. Concludiamo questa undicesima mensilità con un film davvero importante a cui teniamo tanto, un film lieve, romantico, delicato, un film che si chiama Stolfo di un regista sempre bravo nel toccare i sentimenti come Gianni di Gregorio e già regista di Pranzo di Ferragosto. Qui si parla di amore, legato alla terza età e recita proprio lo stesso di Gregorio con Stefania Sandrelli. Un film che ci fa credere nelle seconde occasioni, nella speranza appunto anche di ritrovarci innamorati quando tutte le speranze sembrano appunto svanire. Un film che ci fa davvero star bene, un film perfetto per la nostra filosofia di MediCinema di cui andiamo a vedere intanto il trailer ufficiale. Eccolo. Per carità io non le voglio mettere fredda, però il suo contratto sta per scadere. Ma me lo dice così all'improvviso. Pronto, Franca? Stolfo, sei tu tutto bene? Ti ricordi che io avevo una casa al paese? Ancora calma questo? Oh, chi sei? E questa è casa mia. Da quanto tempo ci stai? Sei sette oltre anni. Ma che è questo? Questo era il salone di casa mia. E questo stava già così quando sono arrivato. Pippa, vedete che piano piano se la stanno mangiando tutta sta casa. A casa sua si sono raccolti i peggiori sbandati del paese. Sono tutte occupate le state? No, no. Anzi. Insomma, chi ci viene in questa casa? Allora io, lui e loro vanno, vengono. Ho conosciuto una signora. Ti piace? Beh sì, che mi piace. E allora? E oggi le ho fatte il messaggino. E lei mi ha risposto. No. Ma chi era quello? Un amico. Questo è un'incerca di soldi. Ma che c'entrano i soldi? Io che cose le potrei offrire? Io sono vecchio. Noi non siamo vecchi. Noi siamo leoni. Come stai? Oggi sono proprio felice. A Stolfo! Il film davvero delicato, sentito, emozionante. Non potete assolutamente perdervelo. Noi vi aspettiamo in sala per questa pellicola. Davvero l'ho un po' raccontata tutta inizialmente. Quindi vi lasciamo spazio alle immagini e alla visione appunto nella nostra sala di questo film perfetto. per rappresentare Medicinema. Grazie a tutti per l'attenzione. A prestissimo con i nostri prossimi appuntamenti. Grazie.